E' così 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 niente, non rispondo dove cazzo siamo finiti? ho sbagliato assolutamente No compare, però non ci stai con la testa Ciccio, ma dove siamo? Quanto è che sto parlando? Vabbè, va Problema? Sì, che sono finito con due disperati Questo sto ora al telefono con una ragazza che non lo cagherà mai Oh! E questo gli infranti il cuore Poverazzo C'è problema? Stai zitto Ma infranta, non lo capisci Prendi il navigatore Il telefono non ha segnale Ma devi portare tu il navigatore Sì, sì, ce l'ho io qua, eccolo qua Oh, però vi avverto di una cosa Che? Questo è un navigatore particolare Cioè? Eh, ultima generazione Cioè? Di questi qua Tipo Dal basso Un navigatore Spirituale Spirituale? Tra 300 metri gira a destra Ma vuoi anche girare a sinistra La scelta in te è nel tuo spirito Non altrove Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Giro o no? Che ne so? Eh, di ultima generazione Una grande illuminazione nasce da un grande dubbio Lo diceva il Dalalama ragazzi Mancano 100 metri Questa è colpa tua Puoi portare a bere il bue Ma se non sarà lui a bere morirà Mancano 50 metri Che cazzo faccio? Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuoi capire? No compare non lo cazzugliate Che così entri in modalità poesia No, no compare no Che era modalità poesia? Io scendo Appena torno sto coso deve scomparire Ma perché devi fare così? È spirituale O lui O io Ma è una cosa bella la spiritualità No Simone 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 qui qua What's going on? Centinaia di fiori in primavera La luna in autunno La brezza fresca dell'estate La neve in inverno Se non occupi la tua mente Con cose inutili Ogni stagione per te È una buona stagione Guardate ragazzi Stiamo facendo delle cose meravigliose Stiamo rivoltando questa città come un calzino Questi ragazzi La famiglia È proprio una cosa bella Perché è una cosa sentita È come tutte le cose sentite Arrivano all'anima Non mi interessa La ristrutturazione urbana della città Mi interessa la ristrutturazione umana E guardate Questa cosa che stanno facendo Contro la mafia Contro un'idea di Sicilia Che ormai non c'è più La nuova idea Che stiamo promuovendo È proprio quella di trovare un ponte Col Dai Lai Lama Con le attività spirituali Che tutti in questa città Sentono e ci stanno riconoscendo Qualcuno mi prende a pietrate Quando esco la mattina di casa Però Sarebbe sbagliato immaginare Che è un segnale negativo È una bella energia positiva Che io sento che mi arriva In maniera forte, urlata Anche con minacce di morte Ma sono inviti A uno sguardo verso l'aldilà Verso l'altrove Che è un segnale Che è un segnale Che è un segnale